Tiki Taka B2B 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 Tiki 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 T chiusura di un contratto. Ecco, questo nelle aziende oggi spesso non c'è e il concetto da trasferire a mio avviso è non devi essere una grande azienda, non devi essere una multinazionale, non devi avere il grande CRM, oggi ci sono un sacco di tool, di strumenti intelligenti in cloud che ti permettono di organizzare le tue informazioni. L'impresa, anche se piccola o media impresa, deve avere queste informazioni di area commerciale ma che partono dal marketing, quindi dalla lead generation in fondo fino alla chiusura dei contratti. Che consigli possiamo dare a chi ci sta guardando? Chiaro, allora innanzitutto un tema importante, come dicevi tu i dati soprattutto se parliamo di B2B non devono essere 100.000, ok? Non più tardi di questo pomeriggio abbiamo fatto assieme a uno dei nostri account un'analisi di una campagna di un nostro cliente, quindi siamo andati nel nostro CRM e abbiamo visto quei 4-5 dati però fondamentali, come dicevi tu, no? quanti lead mi ha generato una determinata leva, da quei lead quante offerte ho fatto, sulle offerte quanti contratti, quindi è chiaro che avere in pochi click le informazioni che sono fondamentali è determinante, quindi non servono grandi dati. Sul tema del CRM è importante anche dire che cosa? Che ci sono oggi in commercio moltissimi CRM, attenzione però perché alcuni sono veramente molto complessi, nel senso che oggi se parliamo di piccole e medie impresa è fondamentale avere un tool innanzitutto perché l'Excel ha sicuramente dei limiti e il tema del tempo reale l'Excel non ti permette di fare. Io consiglio di dotarsi di un CRM che sia semplice perché sappiamo benissimo cosa vuol dire soprattutto se pensiamo ai venditori aggiornare i dati in un CRM, quindi deve essere veramente molto molto semplice e poi insomma bisogna anche fare un lavoro sui venditori che a volte sono quasi gelosi dei dati. Certo, ma questo mi dà spunto, spesso mi viene fatta questa domanda, Andrea qual è il miglior CRM, che CRM mi consigli? E io rispondo quello che popolerete, cioè il problema non è la piattaforma, ce n'è anche troppe come dicevi tu, bisogna fare attenzione che non siano troppo complesse, il CRM è come un po' un telefonino, tutti lo abbiamo, ma se andiamo a vedere le funzionalità che realmente utilizziamo sono il 5% dello strumento, quindi qual è il miglior CRM? Beh, è quello che tu popolerai, quindi bisogna convincere gli utilizzatori dello strumento ad usarlo, questo è il grande tema. Mi viene in mente anche un altro aspetto che è l'aggiornamento del dato in tempo reale, magari la racconto velocemente, come dicevi tu prima, noi ci siamo dotati di un nostro tool, di un nostro strumento, avendo gli sviluppatori interni abbiamo preso la decisione di creare uno strumento interno. C'è stato un momento, qualche anno fa, che avevo più di 300 meeting commerciali fatti dalla nostra rete con esito punto interrogativo. avevamo il CRM che sostanzialmente quando il marketing fissava un appuntamento, l'esito di default era il punto interrogativo, avevo più di 300 appuntamenti commerciali fatti, non aggiornati, non aggiornati, al costo medio di 100 euro l'uno sono 30k fuori, diciamo così, in attesa di feedback. A quel punto ho detto qua qualcosa non va e praticamente abbiamo preso la decisione di sviluppare una funzionalità tale per cui il giorno dopo di quell'appuntamento il venditore che apriva il suo CRM aveva solo una possibilità che era quella di aggiornare quell'evento e poi l'abbiamo esteso alle offerte. Questo ci ha risolto il problema della carenza del dato in tempo reale, perché se tu sai che la tua rete vendita ha fatto 300 appuntamenti nell'ultimo trimestre e non sai però che cosa hanno prodotto, hai un senso di frustrazione sostanzialmente elevato. Quindi è un grande tema non solo lo strumento, non solo la centralità del dato ma anche la centralità del dato in tempo reale anche perché è estremamente importante fare analisi. Assolutamente. Che cosa ne dici del fatto, cioè dal mio punto di vista l'analisi, la tracciatura deve partire dalla lead generation, oggi si parla molto di costo acquisizione cliente che è determinante nel marketing. La lead generation deve essere tracciata, quindi dal momento in cui il lead viene generato per provenienza di fonte del marketing fino alla chiusura del cerchio, timbro e firma del contratto. In questo modo noi avremo la possibilità di sapere per ogni leva di marketing che cosa ci sta producendo in termini di KPI intermedi. Che consigli diamo? Allora questo è fondamentale Andrea, nel senso che noi lo sappiamo molto molto bene, chi fa marketing e chi utilizza molte leve, oggi ci sono tantissime attività che si possono fare nel B2B ma anche no, e quindi è chiaro che sapere quanti quattrini tu investi su Facebook piuttosto che su Google, avere le varie tracciature, avere data aggiornato è fondamentale perché ti permette di capire quanto stai investendo e che cosa sta tornando. Quindi è fondamentale l'aggiornamento. È chiaro che il tema del CRM io mi rendo conto perché io stesso, tornando indietro nel tempo, quando ho iniziato ad utilizzare il CRM, è chiaro che anch'io ho dovuto un po' abituarmi, nel senso che il CRM ti cambia la vita, te la cambia meglio, nel senso che ovviamente nel momento in cui tu entri nella mentalità del CRM è chiaro che riesci a capire tutti i vantaggi che il CRM ti può dare, però è chiaro che nel momento in cui non sei abituato ad utilizzarlo, mi rendo conto che ci può essere... Devi fare la fatica per switchare... Devi fare un po' di fatica, però è chiaro che quando fai questa fatica poi ti rendi conto di quanto più veloce vai, di quanto più veloce vai e soprattutto, io dico sempre, il marketing non può prescindere dalla tracciatura dei dati, dalla tracciatura dei dati in tempo reale e quindi è fondamentale adottarsi di un CRM. Oggi fare marketing senza un CRM io la vedo quasi impossibile, nel senso che, ripeto... Sarebbe come andare in macchina senza contachilometri e dire sto andando a 100 all'ora, in realtà stai sbagliando. Il CRM è fondamentale. Abbiamo anche noi dei casi di clienti, sappiamo benissimo che cosa significa per loro... Certo. Insomma abbiamo tante storie da poter raccontare. Assolutamente sì, magari concluderei dicendo che cosa... Quando si fanno questi discorsi, d'altra parte, se uno non utilizza questi strumenti e quando inizia ad analizzarli, si spaventa. Vorrei raccontare velocissimamente il caso di un nostro cliente che arrivava proprio da una situazione dove per anni abbiamo avuto una difficoltà estrema a cercare di implementare il CRM e dandolo addirittura in uso all'interno dei nostri progetti, quindi il problema non era nemmeno economico, era proprio riuscire a portare l'azienda a computare i dati. Siamo stati tre anni, addirittura il cliente poi dopo ha fatto la scelta di dotarsi di uno strumento importante, costoso, però oggi, dopo qualche anno di tentativi, questa è un'altra azienda. In tempo reale, l'ultima riunione che abbiamo fatto di inizio anno, lui proiettava con grande orgoglio perché poi tra l'altro è un ingegnere, tutte queste dashboard con le informazioni importanti, fonte, provenienza dei lead, rapporti di conversione per commerciale, per leva, ticket medio, lifetime value del cliente, insomma il tema del CRM poi dopo quando si allarga ha un discorso veramente di business analysis sui dati di marketing e questo è straordinario farlo in una piccola e media impresa perché le grandi lo fanno di default, ma avere una piccola e media impresa che si organizza in questo modo direi che diventa un vero e proprio gioiellino. Assolutamente e secondo me una piccola e media impresa può avere anche dei benefici veramente, non voglio dire più importanti rispetto ad una grande azienda, però ecco la grande azienda è abituata magari ad avere dei sistemi, non voglio dire anche complessi, però c'è una certa abitudine, la piccola e media impresa che si dota di un CRM poi va velocissima, va come un treno, prima guardavamo le statistiche di un nostro cliente, avere il tuo CRM con le varie torte, con le varie durate, i periodi, puoi fare i filtri, cioè è un altro mondo, è chiaro che deve essere un processo, un percorso, quello che però è fondamentale e secondo me è il messaggio che deve arrivare a chi ci ascolta. Oggi non puoi prescindere dal CRM, quindi è un passaggio, se non hai un CRM è un passaggio obbligato, nel senso che prima o poi ci devi arrivare, prima o poi ci devi arrivare perché è fondamentale, non puoi prescindere da questo, quindi il messaggio che deve arrivare è il CRM deve essere un qualche cosa che deve essere anche assimilato dall'azienda. Poi ripeto, sulla scelta ci sono veramente molti CRM in commercio, tanti anche gratuiti che fanno un ottimo lavoro, quindi il tema non è quale CRM, il tema è se vuoi fare marketing, se vuoi sviluppare il business, se vuoi avere il controllo, se vuoi anche soprattutto... Deve avere i dati. Deve avere i dati. Quindi non solo CRM ma anche quegli strumenti di business analysis che poi ci sono, perché naturalmente concludiamo dicendo il marketing può essere veramente articolato e strutturato, quindi se vuoi farlo, diciamo così, con il massimo della performance devi dotarti anche di quegli strumenti che ti permettono di fare analisi. Comunque penso che il messaggio l'abbiamo dato e possiamo vederci la settimana prossima. Ciao. Buon marketing. Buon marketing.